Musica Rassicurazioni della Prefettura di Benevento da lunedì 25 luglio riaprirà anche per le ore notturne. La strada statale 87 Sannitica, l'arteria, era stata riaperta parzialmente dopo la frana il 9 aprile scorso. Ancora incendi in Campania, bruciati 6 ettari di vegetazione nel Salernitano, a dare manforte alle operazioni di spegnimento invece del vasto incendio che da giorni sta interessando le pendici del Vesuvio, è arrivato anche un elicottero dell'esercito. Vigile urbano sorpreso a rubare salami e formaggi in un supermarket scoperto da commessi a San Felice a Cancello. Controlli dei carabinieri nirpini a scoperti armi e munizioni illegali. Operazione della finanza di Benevento a Tufra Valle, 55 anni, deteneva in un borsone 160 pacchetti di sigarette di contrabbando. L'elenco secondo l'indice di attrattività, Rimini e Positano, le spiagge più gettonate. Nuova edizione del Media News, lo abbiamo appena ascoltato dalle nostre anticipazioni. La statale da lunedì 25 luglio 87 riapre per tutto il giorno. Dalla riunione in prefettura a Benevento è stato deciso, sarà aumentata anche la vigilanza e presso al via i lavori per il ripristino. Sentiamo i dettagli. Sono stati ufficializzati interventi e procedure fondamentali per assicurare la stabile apertura della strada statale 87 Sannitica. Arteria vitale che collega la Campania e il Molise è chiusa dopo i disastrosi eventi alluvionali dell'ottobre 2015 a causa dell'aggravamento del movimento franoso in atto al chilometro 82 più 350 e dal 9 aprile è riaperta al transito veicolare dalle ore 6.30 alle ore 20.30 tutti i giorni. Ovviamente è stata posta la massima attenzione a non sottovalutare il rischio causato da masse di superficie in costante movimento, movimento che allo stato attuale può repentinamente essere accelerato dalle piogge e provocare il collamento rapido di materiale sulla strada. Per favorire la realizzazione di opere speditive di stabilizzazione della frana in attesa dell'attuazione di un progetto di risanamento globale del dissesto idrogeologico, la Prefettura di Benevento ha promosso un'intensa e proficua collaborazione tra i diversi soggetti interessati che ha reso possibile definire nell'incontro modalità e tempi per l'inizio dei primi lavori di drenaggio e canalizzazione delle acque della frana. Fondamentale è la piena sinergia assicurata dalla Presidenza della Regione Campania e dal Commissario Delegato per l'emergenza. al fine di consentire il veloce finanziamento di tale iniziale attività di prosciugamento dei terreni che saranno eseguite nei prossimi mesi. L'avvio dei lavori è previsto in tempi brevissimi dal Comune di Torrecuso, quale soggetto attuatore con la collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie delle Università degli Studi del Sagno. Nel frattempo l'implementazione del sistema di monitoraggio. Un occhio elettronico vigilerà per 24 ore sull'area in frana, anche grazie al sistema di illuminazione realizzato da ANAS e la riduzione significativa del movimento delle masse sostenuta dalle condizioni atmosferiche favorevoli consentono di migliorare la gestione del transito veicolare con frana attiva. Pertanto, dal lunedì 25 luglio, la strada statale 87 Sanitica sarà aperta per l'intera giornata. Per la tutela dell'utenza stradale in caso di potenziale pericolo si procederà ad attuare l'oramai codificata procedura di allerta per l'immediata chiusura solo temporanea. Inoltre, non trascurando le possibili sollecitazioni alla frana provocate dal traffico pesante, sono state concordate misure per la riduzione della velocità nel tratto interessato con controlli continui da parte delle forze di polizia. Ancora incendi in Campania bruciati 6 ettari di vegetazione nel Salernitano a dare manforte invece sul Vesuvio alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che da giorni sta interessando le pendici del vulcano è arrivato anche un elicottero dell'esercito. Nel servizio? Gli elicotteri vanno e vengono, il loro rumore scuote da tre giorni tutto il circondario. Il fumo è visibile da alcuni punti dell'agronocerino come dalla penisola sorrentina. Il Vesuvio continua a bruciare. Bloccato il fuoco però almeno nel lato che affaccia su Torre del Greco ma la situazione resta in generale critica. Il vento di ieri ha riavviato i focolai inizialmente spenti sulle pendici dando nuova forza all'incendio che ormai da qualche giorno sta tenendo in apprezzione gli abitanti di diversi comuni dell'aria. In un primo momento si era ritenuto che le fiamme fossero sotto controllo. In azione squadre di terra del servizio antincegno regionale gli elicotteri che attingono direttamente da alcune vasche d'acqua allestite nel campo sportivo del comune di Terzigno. Le fiamme e la colonna di fumo sono visibili dalle abitazioni di diversi comuni del Vesuviano come Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Bosco Trecase e Bosco Reale. I probabili motivi del vasto incendio sono riconducibili con ogni probabilità all'azione di piromani. Lo sottolineano anche dalla regione Campania. Nella giornata di ieri il personale della SMA Campania ha allertato il comando dei carabinieri di Ottaviano dopo aver avvistato 5 persone che si apprestavano ad applicare ulteriori incendi. Intanto dalla Consulta Nazionale dell'Agricoltura propongono la richiesta dello Stato di emergenza. Sono andati in fumo decine di ettari di bosco. La Giunta regionale dal canto suo ha approvato la convenzione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco con la quale si intensifica la collaborazione per tutte le attività di vigilanza e spegnimento degli incendi boschivi. La delibera che impegna fondi della regione per 460 mila euro ha come obiettivo l'impegno di più mezzi e uomini sia sul fronte della prevenzione che degli interventi d'emergenza. Oggi la mobilitazione nazionale lanciata dalla campagna Lasciateci entrare in occasione della giornata del rifugiato dal Friuli alla Sardegna, dal Piemonte alla Calabria fino all'Ampedusa è riscontrata una debolezza del sistema di assistenza ai migranti. Vediamo il caso di Salerno dove sono stati accolti altri 25 stranieri. Sentiamo. 25 migranti inviati dalla prefettura di Salerno qui a Sarno, giovani provenienti dal Bangladesh, dal Kenya e dal Sudan che sono stati accolti ieri dall'assessore alle politiche sociali della città di Sarno Vincenzo Salerno e dal responsabile dei servizi alla persona, Purfidio Monda. Ho visto persone che finalmente stanno trovando un po' di accoglienza assolutamente pacifica, assolutamente tranquille per i quali si sta appena iniziando ad avviare un minimo di attività di integrazione. Io penso che questa è l'unica strada per superare la diffidenza insomma, quella di far incontrare le persone. Non sarà facile, ma non vedo alternativa. Tra l'altro noi non possiamo fare altro che accoglierli. Arrivano, dobbiamo trovare il modo. Sottolineiamo anche questo, c'è il ruolo della Comune in questa vicenda che è solo di supporto. Queste sono attività che svolge la Prefettura in totale autonomia nel momento in cui la Prefettura si ritrova agli sbarchi e deve collocarle, insomma. Noi come Comune possiamo accompagnare queste vicende e innanzitutto cercare di lavorare a tentare la mediazione e l'integrazione con le realtà territoriali cercando di evitare che ci siano conflitti. Bisogna cercare di trovare il modo e non è facile perché i mezzi non ci sono gli strumenti sono scarsi di integrare queste persone. Non c'è alternativa. Nel mondo futuro sarà un mondo meticcio. Se a una pagina della cronaca un vigile urbano con il vizietto di rubare generi alimentari in un supermercato è stato scoperto a San Felice a Cancello dai carabinieri che gli hanno notificato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere. Sentiamo i dettagli. Commetteva furti di genere alimentari persino con addosso la divisa di ordinanza. Un agente della Polizia Municipale di San Felice a Cancello è stato per questo raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è emessa dal GIP di Santa Maria Capoavetere su richiesta della Procura per furto aggravato. La misura è stata eseguita dai carabinieri del comando di Cancello l'agente municipale Vincenzo Rivetti 58 anni tra novembre 2015 e gennaio 2016 si sarebbe recato in quattro diverse circostanze durante l'orario di servizio in uniforme con auto del comando della Polizia Municipale di San Felice a Cancello presso un supermercato prelevando dagli scaffali e dal bancone frigo, salame, parmigiano ed altri generi alimentari nascondendoli nelle tasche delle uniforme o nel marsupio nello specifico i carabinieri hanno appurato che l'agente in tutte e quattro le circostanze accompagnato da un altro collega che è stato deferito in stato di libertà ha persistito nell'azione delittuosa sebbene in alcune occasioni sia stato anche sorpreso dai dipendenti a supporto dell'attività d'indagine la denuncia presentata dal titolare dell'esercizio l'escussione testimoniale dei dipendenti nonché le immagini estrapolate ed acquisite dal sistema di videosorveglianza del supermercato che documentano le fasi del furto I carabinieri del comando stazione di Macerata Campania Giuliano e in Campania hanno tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dall'ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetere per il reato di rapina Giovanni Micillo classe 81 del posto l'uomo a conclusione di serrate attività di indagine svolte dai militari è stato individuato quale autore di una rapina messa a segno l'11 giugno 2016 in danno di un agente di commercio intento a consegnare latte derivati per conto di una ditta di caserta I militari questa volta del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Marcianisi hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Angelo Pane classe 76 di Napoli ristretto presso la casa circondariale di Secondigliano e Vincenzo Guastafierro classe 71 di Terzigno ristretto presso la casa circondariale sempre di appoggio reale i due sono ritenuti responsabili di una rapina perpetrata lo scorso 16 settembre del 2015 a Casoria alla Via Nazionale delle Puglie non ce l'ha fatta l'84enne di San Salvatore Telesino rimasto ferito martedì sera in modo grave in un incidente agricolo il cuore del pensionato ha cessato di battere nella tarda mattinata all'ospedale Rummo di Benevento dove era stato trasportato d'urgenza dopo l'accaduto Controlli dei Carabinieri in Irpinia scoperte armi e munizioni illegali sentiamo I militari della compagnia di Montella nell'ambito di servizi finalizzato al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza hanno deferito alla competente autorità giudiziaria una persona ritenuta responsabile di detenzione illegale di armi e munizioni numerosi sono stati controlli effettuati a coloro che detengono armi effettuate altresì varie perquisizioni per la ricerca di armi clandestine le attività poste in essere hanno confermato che la maggior parte dei titolari di licenza di porto e detenzione di armi sono risultati in regola con la normativa vigente in un caso invece sono state riscontrate delle irregolarità che hanno permesso di sequestrare due fucili da caccia una pistola ed una ventina di munizioni in particolare durante tali controlli i carabinieri della stazione di Paternopoli hanno accertato che un pensionato di San Mango sul Calore deteneva illegalmente una pistola calibro 7,65 e due fucili da caccia calibro 16 con relativo munizionamento nonostante l'inibizione decretata dalla prefettura di Avellino non avendo ottemperato a quanto disposto i carabinieri hanno pertanto proceduto al sequestro denunciando il responsabile alla procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni auto rubata inseguita e bloccata dai carabinieri trentenne denunciato per ricettazione accaduto nelle strade secondarie di Mugnano del Cardinale l'auto è risultato oggetto di un furto del 2013 in un comune della provincia di Caserta operazione della guardia di finanza di Benevento a Tufaravalle una donna è stata trovata in possesso di 160 pacchetti di sigarette di contrabbando sentiamo Nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio posto in essere da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Benevento finanzieri del nucleo di polizia tributaria nel corso di controlli effettuati presso la stazione ferroviaria di Tufaravalle hanno sequestrato 160 pacchetti di sigarette di contrabbando del peso di oltre 3,3 kg denunciando in flagranza di reato una donna di 55 anni di Benevento che le deteneva in un borsone si può stimare che l'intero quantitativo immesso sul mercato clandestino avrebbe fruttato circa 500 euro quest'ultima operazione testimonia l'incessante impegno delle fiamme gialle a tutela della salute pubblica e dell'economia legale e al contrasto al fenomeno illecito del contrabbando che in questo particolare momento di crisi economica ha ripreso vigore dall'inizio dell'anno le fiamme gialle sannite hanno sequestrato complessivamente 7,4 kg segnalando alla competente autorità giudiziaria due responsabili scappa da una clinica psichiatrica nessuna traccia di Antonio Cantice e i familiari del cinquantenne di Acerra sono preoccupati per un possibile stato di shock si cerca nel Nolano in pensione l'ultimo cardiologo alla maresca di Torre del Greco diagnosi via fax disagi e disservizi all'ospedale di Torre del Greco dove la TAC non funziona e mancano radiologi pubblicato sul sito dell'Università Federico II di Napoli il bando per la selezione di 200 studenti per diventare sviluppatori dell'Apple sentiamo i dettagli non serve una laurea ma il diploma di scuola superiore e una buona conoscenza dell'inglese sono questi i minimi requisiti per entrare a far parte dell'Academy Apple per sviluppatori di app sono queste le condizioni necessarie per accedere alla selezione per l'ammissione all'IOS Developer Academy istituita dalla Apple in sinergia con la Federico II in seguito al sigillo del contratto di cooperazione scientifica e tecnologica stipulato qualche giorno fa tra il rettore Gaetano Manfredi e i vertici della multinazionale americana già è apparso sul sito dell'Ateneo www.unina.it il bando riservato solo agli under 30 per la selezione dei prossimi 200 studenti ammessi al corso sin dal prossimo anno accademico i corsi inizieranno dal prossimo ottobre nel nuovo polo universitario a San Giovanni a Teduccio ma il documento informativo spiega che saranno divisi in due gruppi i primi 100 seguiranno i nove mesi di corso da ottobre a giugno gli altri 100 da gennaio a settembre alcuni seguiranno le attività in italiano in inglese gli altri solo in inglese tempi stretti per la domanda di partecipazione esclusivamente online la scadenza improrogabile è fissata alle ore 12 del primo agosto momento entro il quale i candidati dovranno non solo inserire i dati anagrafici ma fornire volendo informazioni aggiuntive che sembrino funzionali alla selezione i test di accesso il cui calendario sarà pubblicato entro il 10 agosto si terranno non prima della fine di agosto a scienze biotecnologiche in via di Amicis due fasi per la prova di ammissione i candidati dovranno vedersela con un test che ne valuterà le competenze digitali e di programmazione con 30 quesiti ciascuno con quattro opzioni di risposta su argomenti di logica algebra di informatica di linguaggi di programmazione in seguito al test il colloquio motivazionale che si svolgerà in inglese al quale saranno ammessi non più di 300 ragazzi in base al punteggio conseguito al test al via il piano di viabilità il 6 agosto è da Bollino Nero il capo della polizia Gabrielli annuncia più controlli ma i comportamenti in auto sono fondamentali sentiamo Bollino Nero la mattina di sabato 6 agosto quando verranno percorsi sulla rete stradale e autostradale italiana qualcosa come 220 milioni di chilometri Bollino Rosso per l'ultimo weekend di luglio e per tutti i fine settimana di agosto con gli ultimi due in cui si concentreranno i rientri in città parte oggi il piano per l'esodo estivo messo a punto da Viabilità Italiana l'organismo del Viminale presieduto dalla polizia stradale qui spetta la gestione delle situazioni di crisi e l'organizzazione dei servizi per ridurre i rischi e i disagi per gli automobilisti il piano è stato presentato in una conferenza stampa al ministero alla presenza di tutti i soggetti interessati oltre alla polizia stradale l'ANAS autostrade ISCAT e protezione civile le istituzioni i gestori e le società autostradali ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli possono fare e faranno molto aumenteremo i controlli useremo tutta la tecnologia a disposizione metteremo in campo tutte le forze disponibili ma sono i comportamenti di ogni cittadino a fare la differenza la vita è nelle mani di ognuno di noi dunque il mio invito ai cittadini è quello di essere sempre presenti a se stessi tenendo comportamenti adeguati l'obiettivo del piano hanno ribadito tutti i presenti è far viaggiare sereni e in sicurezza agli italiani riducendo morti e feriti sulle strade per tutto il periodo estivo è stato spiegato verranno sospesi tutti i cantieri rimovibili mentre resteranno aperti quelli fissi il piano contiene inoltre tutte le informazioni relative alle direttrici maggiormente interessate dal traffico gli itinerari alternativi le indicazioni per essere sempre informati e novità 2016 una brochure interattiva denominata partenze intelligenti che ha lo scopo di offrire ai viaggiatori tutti gli strumenti per pianificare il viaggio e monitorare le condizioni del traffico e del meteo estate mare turismo Rimini e Positano le spiagge più gettonate sentiamo perché prima Rimini quindi Positano Porto Cervo Taormina e Amalfi sono queste le spiagge preferite da chi deve valutare una vacanza secondo l'indice di attrattività e riconoscibilità stilato dalla camera di commercio di Monza e Brianza stilato combinando la ricerca su internet attraverso i motori di ricerca le imprese dell'accoglienza e della ristorazione le discoteche e i valori degli immobili dopo Rimini Positano Porto Cervo Taormina e Amalfi ci sono la Toscana con Orbetello il promontorio dell'argentario quindi torna la Romagna con Riccione e la Puglia con la rinomata Baia di Gallipoli tra le prime dieci posizioni e presente il lago con Sirmione e sono proprio le spiagge lacustri a registrare la crescita più alta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sui motori di ricerca con Tremezzina provincia di Como e Sirmione siamo alla pagina sportiva dei laurenti Sessarri d'accordo tutti e due su Tolisso il giovane centrocampista francese l'obiettivo per rinforzare la mediana del Napoli blitz degli agenti a Di Maro si aspetta la risposta del giocatore prima di trattare con il Lione intanto dal sorteggio del calendario di Serie A è stata decretata prima partita di campionato quella contro il Pescara in trasferta quindi prima giornata il prossimo 21 agosto Pescara Napoli Serie B Benevento la preparazione alla Team Cup e al campionato cadetto continua la prima fase inizia in mattinata e prosegue dopo la pausa pranzo partita di Coppa contro la Salernitana fissata per il 7 agosto ancora Serie B in due costretti a lasciare il ritiro per infortunio e Biancoverdi dell'Avellino hanno mandato in archivio a un altro giorno di lavoro a Sturno Lega Pro ha sorteggiati gli accoppiamenti della Team Cup 2016-2017 il 31 luglio la Casertana affronterà allo Stadio Pinto il tutto cuoio nel primo turno la vincente troverà il Vicenza oggi è stato invece presentato il nuovo mister ed è tutto per questa edizione vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo arrivederci a Grazie a tutti Per sabato 23 luglio L'anticiclone Caronte cede ulteriormente su alcune regioni italiane caldo e sole al sud Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it Al nord avremo temporali via via più diffusi sull'arco alpino, appennino settentrionale e a carattere sparso anche sulla pianura padana, specie su quella occidentale Al centro cielo che sarà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, possibili temporali pomeridiani sui monti tra Frusinate e Aquilano Al sud continua invece il bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni I venti soffriranno generalmente deboli, meridionali, sui bacini occidentali variabili invece altrove Temperature previste Minime in locale e ulteriore leggero aumento I valori saranno infatti compresi tra 17 e 24 gradi circa Durante il giorno prevediamo 25-34 gradi al nord fino a 35 gradi al centro e non più di 33 gradi al sud con affa moderata al primo mattino e dopo il tramonto Grazie 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 a tutti.